È una partita molto importante, molto importante per il morale della squadra perché veniamo dopo la partita di Bergamo e che non siamo riusciti a fare bene e anche a Trento contro loro abbiamo fatto, sono due le partite che non siamo riusciti a fare cosa sappiamo di fare e dobbiamo dimostrare che noi non siamo stati questi che abbiamo giocato lì, noi possiamo giocare meglio con la volo. Sì, dopo quattro partite per due settimane che abbiamo giocato in fila eravamo molto stanche però queste due settimane abbiamo lavorato tanto il campo e speriamo che dopo queste due settimane che abbiamo lavorato così di dimostrare un bel gioco. Sì, loro vengono dopo Covid, è una cosa che abbiamo passato anche noi, non è facile però anche noi dopo Covid abbiamo avuto passi alti e loro sono una squadra che gioca in gruppo e non dico che è facile come partita e dobbiamo dare il massimo per vincere questa partita. Sì, è normale che è meglio di giocare in casa che fuori, in casa abbiamo fatto delle belle partite e speriamo che anche queste giochiamo come sappiamo noi giocare. Abbiamo solo una fuori che è busto però buono così, così non abbiamo neanche viaggio che è normale quando si gioca tanto ti fa stancare ancora di più.